Per riprendere il discorso dei quattro termovalorizzatori in quella gara falsa che è stata assegnata e che è controllata, un appalto controllato dalla mafia, però non mi voglio sparare tutta questa mattina perché è domenica 7 al Politeama, però nome, cognome, circostanze e prove in cui c'è un accordo sia da parte di Usumeci che da parte di Niciche di riprendere la realizzazione dei quattro termovalorizzatori gestiti dalla mafia.